Buongiorno Carlitos, com'è andata per la prima volta? Buono, buono, buono. Come si chiama sto campo? Il campo dei Bop, Cascina Fornace. A Mediglia? Sì, è Mediglia, è una frazione. Passiamo un attimo alla parte est di questo gioco. Lui non parla, lecca e basta. Fai vedere il tuo a cappa. Ecco, toglierti dal cazzo. Passiamo al nonno, com'è andata? Bene, bene, bene. Abbiamo conquistato due o tre basi, no? Giusto? Sì. Insomma, siamo arrivati all'ultima, ma la bandiera non l'abbiamo vista nessuno. Ma è la prima partita, dai, adesso. Beh, ci sta, dai, per il riscaldamento ancora ci sta. Carichi, no? Speriamo che Sal si metta in moto, dai, il fucile è a posto. Alla grande, cominciamo. Paolo che fuma, tranquillo, un attimo di break. Ale, carico. Lui c'è un negozio addosso, praticamente. A voi studio. Il aerosoft, Campo, Bob, Amidiglia, Ukraini e Italiari, ragazzi. A voi studio. no 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 a nessuno D'accordo, c'è tu nonno? Nonno, parla! Adesso mi è davvero idendo a parte, perché è lì e lì? Pisho, pisho! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Preso! Oh, oh, oh! Non siamo nel gioco! Un po' fermo. Io propongo fare un altro rigenero, rientrare tutti quanti e fare lo scontro di nuovo. Senza rigenero però, una cosa veloce, senza rigenero. Eccoci qua con il nostro vincitore di questa giornata. Due parole per i prossimi provanti. che vuoi, sole, cuore e amore. Questo è quello che ci vuole per vincere. Grazie a voi studio! Ciao, ciao! Due parole della giornata della inculata. Salve, sono Marco, la contatto da Sky. È stato un piacere, grazie a tutti, gentilissimo, sante parole. Ai giorni d'oggi! Grande! Carlitos! Buongiorno! Tutto sudato, non hai fatto niente oggi. Oggi, ma me la sono raccontata. Col mio collega... Chi è questo uomo nudo? Europeo. Ha un nome? Si, si chiama Riccardo. È quello in Bianchino? Di Bianchino. Ecco, abbiamo UPS. UPS, Bartolini. Ma io ci avevo stato... Di HL. Ecco, due parole, ragazzi. Una bella giornata, una bella giocata da riparci. Nonno, com'è andata? Niente, è una giornata abbastanza bella. Solare... Ci siamo divertiti, dai. Ci ritorneremo sicuramente con tutta la squadra al completo. Aspettiamola, sì oggi. Salutiamo a tutti quelli che non sono venuti. E auguri alle mamme. E auguri a tutte le mamme. Auguri a tutte le mamme. Grande. Auguri. Auguri. Ciao Pogliese! Ciao Pogliese!